Oggi una versione molto curiosa, molto singolare per quanto riguarda le daily news di Mr. Gadget prima del fine settimana per darvi giusto le notizie fondamentali, ad esempio il fatto che arriva Office per Android e iOS in versione freemium, già scaricabile tra l'altro per il vostro tablet Android e anche per il vostro iPad. La differenza rispetto a prima, prima potevate solo leggere i documenti, adesso invece li potete anche editare e produrre. A proposito di quello che riguarda il mondo tablet, il mondo Nexus e Samsung, c'è una notizia curiosa perché i tablet Android sono già i più venduti da molto tempo per quanto riguarda il mercato delle tavolette, ma l'utilizzo che ne viene fatto è molto più ridotto rispetto a quello di iOS. Sembra che gli ultimi dati di mercato ci dicano invece che gli utenti di Nexus e Samsung, oltre a comprare i loro tablet, quando li portano a casa cominciano anche usarli adesso molto di più. A proposito di Samsung, un'altra notizia molto particolare che riguarda il mondo della nuova linea di prodotti perché Project Zero sembra non solo essere un Galaxy S6 disegnato praticamente da zero, quindi rivisitando completamente il design degli smartphone, ma pare che potrebbe addirittura aprire una nuova linea che andrebbe oltre il naming Galaxy. Andremo a vedere quello che succede. Da ieri in vendita LG G Watch R a 299 euro, 299 dollari anzi nel Google Play Store, è disponibile tra l'altro in vendita anche in alcuni negozi di tecnologia online, ad esempio Clove che per noi è sempre un punto di riferimento per gli acquisti. E a proposito di novità, c'è da dire che è stata vista una preview in questi giorni proprio pronti via. Ieri, la giornata di ieri, abbiamo visto una preview di Lollipop di Android 5.0 per LG G3, per il Moto X e addirittura per l'intera linea di Sony Z1, Z2 e Z3. Quindi speriamo che si avvicini sempre di più il momento in cui Lollipop arriverà su questi prodotti, verrà distribuito definitivamente. Un'altra cosa importantissima invece che vi voglio segnalare, il fatto che a proposito sempre di novità in arrivo il Nexus 6 ormai è prossimo al rilascio, solo 12 paesi per l'esordio, tra questi c'è anche l'Italia. È una notizia assolutamente positiva. Mr. Gadget più tardi con una review di Moto X, nel pomeriggio con Moto G e intanto alle 13 e alle 20 come al solito su Radio Number One. Buona giornata e buon weekend. Ciao!